È stato ufficialmente annunciato il nuovo disco di Laura Pausini. Si intitolerà Simili, uscirà il 6 dicembre e a quanto pare sarà ricco di sorprese. L'album è stato preceduto dal singolo Lato Destro del Cuore, un pezzo che ha riscosso un enorme successo. Scritto da Biagio Antonacci, che per Laura Pausini aveva già composto Vivimi e Tra Te il Mare, Lato Destro del Cuore è arrivato in poche ore in testa alle classifiche di vendita di iTunes, Amazon, Google Play e nella top 10 di tantissimi paesi in tutto il mondo, tra cui Spagna, Ecuador, Svizzera e Messico. Il video del pezzo uscirà domani e c'è già fermento fra i milioni di fans di Laura Pausini sparsi ovunque. Ma le sorprese non finiscono qui. Infatti da piccoli spezzoni di video postati sulle pagine social ufficiali della cantante italiana, pare che il disco sia veramente ricco e che spazi senza difficoltà dal rock al pop alla dance, fino ad arrivare alle ballads romantiche. La cosa però che ha mandato invisibilio i followers della Pausini è stata la notizia che tutte e 15 le tracce del disco saranno accompagnate da un video ufficiale. A quanto pare simili si preannuncia già un nuovo asso nella manica dell'amatissima Laura Pausini.